ed ecco a voi cose che fanno tutti in creativa buona visione dai yori questa cosa che fa così dopo un disastro non è vero sono finti sono finti comunque non è vero sono finti a quest'ora mi avrebbe dedicato lo scherzo c'è ancora c'è sti annetti che sta volando buona visione ah ah allora siamo appena iniziati siamo appena entrati nel mondo ok allora ok fa che bello qui posso mettere il mio macchino e il ferro un ferro ecco ora si che siamo a posto non c'è bisogno le vado a prendere subito no allora ok abbiamo fatto ecco così si inizia un vero e proprio mondo in creativa buona visione aiuto aiuto sta laggando tantissimo buona visione buona visione ok ha visto che siamo in creativa possiamo fare qualcosa allora mi è uscito con efficienza 1 mi è uscito a me con efficienza 1 a te cosa ti è uscito efficienza 3 efficienza 1 e 3 non può non puoi farlo vabbè abbiamo i nostri nuovi picconi vediamo come scavano aspetta mettiamoci un attimo in survival si ci vediamo ci vediamo fra un ok vediamo è lento il mio che pietro hai messo ari che pietro hai messo non lo so ahает dadda dadda ah iscriviti i pescini i cani si vogliono mangiare son envoccata via no vabbè comunque questa era un'altra cosa che ha visto il lampe vabbé che cosa ha combinato? scusate persone comunque buona visione ciao gattino visto che tu non soffri danno da caduta muori no vero non soffri danno da caduta allora cacciate questo pollo si bravi 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 boh finish ragazzi c'è vi resete che ho tre gattini e queste erano le cose che tutti fanno in creativa se questo video vi piace mettete un like lentino e poi facciamo dei giochi insieme e cercherò di scaricare delle mappe in cui posso giocare purtroppo però ho l'app mcp masters che per ora mi sta dando un fastidio perché proprio non mi funziona comunque se questo video arriva minimo 5 se mi piace si allora facciamo 7 no no 5 o 6 6 6 6 ok allora 5 o 6 comunque ragazzi spero che questo mi sia piaciuto da 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 ciao 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 annuncio importante come vedete è pieno di gatti e quella pietro come avete visto è rinfestata io l'ho fregato e come detto c'è il tavolo incantesimo il piccone e l'armatura le ho tolti li ho distrutti proprio se guardate nell'inventario non ho niente e comunque ragazzi veramente questa volta da Samuele e Ari è tutto e noi ci vediamo con un prossimo video ciao ciao